Oggi la presentazione, già domattina si entra nel vivo. Parliamo della cultura rinasce e passa in Valtellina, un'iniziativa promossa dalla cooperativa Niccolò Rusca Onlus, Istituto Pio XII, in collaborazione con Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio e Scuole Polo, Istituto Comprensivo Paesi Erobici di Sondrio e Istituto Alberti di Bormio, grazie al contributo sul bando emblematico di Fondazione Cariplo destinato alla provincia di Sondrio. Il progetto è assolutamente di ampio respiro e ha una scadenza anche temporale molto lunga, opera sostanzialmente su due anni scolastici, quindi fino al giugno dell'anno prossimo 2023 e l'idea è stata proprio quella di mettere a sistema un po' tutte le attività culturali che l'Ufficio in collaborazione con le scuole Polo e con tutta la comunità scolastica valtellinese ha realizzato negli ultimi anni. Arte, musica, letteratura, cinema, c'è anche lo sport, le proposte saranno numerose e tutte di livello. L'obiettivo è appunto quello di realizzare con cadenza mensile, abbiamo presentato le prime attività da qui al mese, alla fine dell'anno scolastico corrente, quindi a giugno, l'idea è a livello periodico presentare appunto la popolazione, a tutta la comunità scolastica, perché sono iniziative rivolte non solo agli studenti ma anche e soprattutto alle famiglie e a tutta la popolazione, iniziative che sono nel segno appunto della ripresa delle relazioni post-Covid, quindi cercare di ritornare davvero a vivere la cultura non più solo a distanza, che è spesso una contraddizione in termini, ma poter assaporare davvero incontri, presentazioni, attività culturali anche e soprattutto di persona e in presenza. Andiamo il via e ne siamo molto lusingati ad un progetto della Fondazione Cariplo e della Pro Valtellina che vanno a rivisitare alcune ricchezze della cultura valtellinese e della cultura italiana e credo che sia una grandissima occasione, infatti noi come Scuola Pio XII ne siamo molto lusingati, cioè di poter partecipare a questa serie, tra l'altro molto ricca, di eventi culturali che spaziano in tutto lo scenario, quindi musica, arte, letteratura e sono un respiro importante per il mondo valtellinese. Il primo appunto, subito domattina alle 10 al Cinema X Chelsior. Presentiamo ufficialmente il docufilm realizzato in collaborazione con Officina della Comunicazione proprio con protagonisti degli studenti del Polo Liceale di Sondrio sulla vita, un docufilm appunto documentaristico in chiave moderna e riattualizzata proprio sulla vita di Dante. Le immagini del docufilm Ieri e Oggi Dante, diretto da Marco Marcassoli, sono state girate in Valtellina. Si tratta di un viaggio alla scoperta e riscoperta di Dante, delle tematiche da lui affrontate, qui applicate alla vita di tutti i giorni. La narrazione, guidata dal professor Franco Nembrini, docente, saggista e profondo conoscitore della Ligieri, offre un'analisi nuova e attuale della sua opera.